Il ponte in questo momento è nella fase conclusiva della progettazione, la regione aveva chiesto un follow up di controllo per quanto riguarda la sicurezza delle varie piene che eventualmente il Cervo potrebbe fare e gli ingegneri in questi due mesi gli hanno dato delle risposte certe, sicché nel momento in cui la regione ci dirà l'ok definitivo il progetto è pronto. Si tratta di trovare i soldi, ma i sindaci ovviamente andranno alla carica verso la regione, sperando che eventualmente ci possano essere anche dei finanziamenti del PNRR, anche questo è un auspicio che facciamo.